Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuta a Rosi Bindi, esponente storica del centro-sinistra, buonasera Alessandro Giuli, presidente del Museo Maxi di Roma, buonasera Alessandro De Angelis, vice direttore di Huffington Post, buonasera a Tommaso Montanari, rettore dell'Università per stranieri di Siena. Allora, da Salvini che spacca la maggioranza sulle elezioni russe alle opposizioni che si spaccano sulle regionali, subito dopo la pubblicità. Rosi Bindi, allora oggi Salvini ha commentato le elezioni in Russia e a proposito del plebiscito per Putin ha detto Quando un popolo vota ha sempre ragione. Tajani ha ricordato le violenze e le pressioni che hanno caratterizzato anche queste elezioni russe e ha detto che la politica estera la fa il ministro degli esteri. Allora, perché Giorgia Meloni tollera queste posizioni filo Putin di Salvini? Ma intanto direi che Salvini non regge, continua a negare che non è putiniano, in realtà lo era e lo è tuttora. Il primo commento è sempre filo putiniano, non solo quelli storici, le felpe, Putin è il più grande leader del mondo, meglio lui della Merkel, Mattarella, ce ne ricordiamo. Due Mattarella al posto di uno. Appunto, certamente. E quello è rimasto, anche se è costretto a nascondere queste sue tendenze dentro un governo nel quale crea imbarazzo, chiaramente. Secondo me manda anche un messaggio ai suoi vecchi amici, in qualche modo. Sono sempre qui, sono sempre io, non sono cambiato. Ma perché Giorgia Meloni tollera queste posizioni? Tollera, tollera perché sono una coalizione, perché sono al governo insieme, però credo che sia molto imbarazzata. E d'altra parte la risposta del ministro degli esteri non è che copre. E' vero che la politica estera la fa il ministro degli esteri, ma un vicepresidente dello stesso governo che fa un commento come questo, capisco bene che si sforzi. Crea un problema. Crea un imbarazzo. Crea un imbarazzo, è un imbarazzo Alessandro. Ma voi vi ricordate quando Silvio Berlusconi, buonanima... Scusate, può continuare a ignorare le posizioni, chiaramente, filo Putin di Salvini? Intanto che la Lega di Salvini non nega il voto necessario affinché l'Italia mantenga un sostegno attivo nei confronti dell'Ucraina, restano parole. Parole, diciamo, che possono imbarazzare, parole esagerate. Io ricordavo la buonanima di Silvio Berlusconi che ci ha intrattenuto all'inizio, nella fase aurorale del governo Meloni, con delle frasi che oggettivamente erano ben al di là, diciamo così, di quelli che ha pronunciato Salvini. Era un po' di onda e diciamo che era anche un'altra epoca. Ma c'era l'Ambrusco, a quei tempi c'era l'Ambrusco. Però poi, all'atto pratico, la politica estera dell'Italia, sindacabile come tutte le politiche estere, ma insomma è nell'alveo perfetto dell'atlantismo che sostiene l'Ucraina. Quindi fa bene Giorgia Meloni a non ignorare. Fa bene a governare nell'alveo giusto. Ah, è così Alessandro De Angelis. E c'è un motivo per cui Salvini alla fine, come diceva Rosi Bindi, resta filo putiniano? Per scelta o probabilmente per condizionamenti di legami progressi? Cioè in termini elettorali? Paga perché c'è una fetta di elettorato in Italia? Ma finora questa sua sfida da destra non ha portato grande successo. Ma la posizione è un segnale politico molto rilevante, soprattutto all'indomani della vittoria di Putin. È un segnale rilevante perché la guerra di Putin si gioca su tre fronti. Quello caldo in Ucraina, l'Africa dove c'è la guerra simmetrica, dove la destabilizzazione dell'Africa ci minaccia sull'energia e sull'immigrazione. E il terzo fronte è l'Europa, con l'idea di influenzare le opinioni pubbliche attraverso i partiti filo russi. L'abbiamo visto oggi, l'abbiamo visto con Navalmi. Sono Alternative for Deutschland, la Le Pen, FPO, Salvini. Quindi c'è una questione russa in Europa di cui Salvini è un terminale rilevante. Ora, è vero che Giorgia Meloni, bisogna darle atto, ha tenuto la linea, si è adattata al vincolo esterno e ha tenuta una posizione limpida sull'atlantismo, confermata dal bacio di Biden, dall'attacco di Fox, emittente filo Trampiana che l'ha sfottuta in quanto cocca di Biden, e dal premio ricevuto dall'Atlantic Council, che è quello che fu dato a dire. Che adesso le verrà assegnato. E tuttavia io però rovescio il tema, proprio perché ha acquisito una credibilità, dovrebbe lei essere la prima a sentirsi in dovere di chiarire che il suo vice premier ha un patto tuttora vigente di unità d'azione col partito di Putin, ovvero al primo punto del patto, al primo punto c'è scritto, le parti, cioè la Lega e il partito di Putin, si consulteranno e si scambieranno informazioni su temi di attualità della situazione nella Federazione Russa e nella Repubblica. Ha detto che si è esaurito, era un patto non tacitamente rinnovabile. È un vice premier, sta nelle stanze del potere, acquisisce informazioni riservate. Non è vigente quel patto. Io credo che Giorgia Meloni avrebbe interesse a chiarire in Parlamento questa cosa. Dopo l'Europa sarà forse anche più chiaro, però diciamo che è un patto che non è vigente stando a quello che dice la Lega. Stando a quello che dice la Lega. Le do subito la parola a Rosi Pinti, ma voglio sentire prima il professor Montanari, perché Salvini ha anche detto di essere preoccupato da qualche leader europeo che parla di militari da mandare a combattere come se fosse naturale. Ovviamente si riferiva al presidente francese Macron. Su questo lei è d'accordo? E Salvini può attrarre voti dei pacifisti? No, perché Salvini non ha nessuna credibilità sul fronte della pace. È lo stesso Salvini che chiedeva, che continua a chiedere da anni, a proporre di rintrodurre la leva obbligatoria militare per ragazzi e ragazze, dicendo che l'educazione delle armi farebbe bene ai nostri giovani. Salvini non è per la pace, è per Putin. Ricordate il video del 2015 sulla Piazza Rossa? Non c'è un Rom, non c'è un mendicante, non c'è un lavavetri, non c'è un clandestino. Questa è una società a modello. È l'idea del mondo che ha Salvini. Sulle posizioni in cui io mi riconosco, che sono quelle del Papa, non vedo nessuno in questo governo. Perché abbiamo una presidente del Consiglio, come è stato detto ora, atlantista a critica, e il suo vicepresidente, putiniano a critico. Una bella situazione. Cos'è che manca? Manca l'Europa, manca la pace, manca la tradizione italiana di cercare una posizione che costruisca la pace senza schierarsi. Dice Giulie che c'è Mattarella. Il povero Presidente della Repubblica, da una parte gli vogliono togliere i poteri col premierato, e dall'altra invece quando serve è viva che c'è. Quando parla dei manganelli in piazza a Pisa mi sembra meno gradito a questo governo. No, ma il Presidente della Repubblica sta con la Costituzione. Da una parte gli vogliono togliere i poteri col premierato. Dice prepariamoci alla guerra. Come si fa a prepararci a un caosso nucleare in Europa? Queste sono le cose serie di cui dovremmo parlare, più serie di Salvini. Anche a lei fa impressione quando il Presidente francese, la Francia è un paese dell'Unione Europea, dice ma dobbiamo essere pronte, non possiamo escludere di mandare anche delle truppe. Mi fa impressione, ma a me fa impressione da molto tempo, perché paradossalmente la posizione di Macron è in un certo senso coerente con la strada intrapresa da due anni a questa parte, perché se assistiamo ad ogni votazione nei Parlamenti, ad un escalation militare, e i risultati non arrivano, anzi la situazione è peggiora, è chiaro che a un certo punto o fai la guerra o cerchi un negoziato. Ma se lei fosse ancora parlamentare avrebbe votato contro l'invio di armi? La prima volta, io avrei votato a favore la prima volta, non avrei più votato se non ci fossero stati segnali chiari di inizio di vie diplomatiche, che non ci sono mai state, e che soprattutto hanno visto l'Europa ferma, l'Italia, l'Italia che giustamente, io so bene che Giorgia Meloni sia sotto il patto, l'ombrello atlantico sta bene, e questo gli consente anche di avere una sorta di autorevolezza sul piano internazionale, e gli consente anche di fare delle cose dentro il piano interno che sono molto gravi e decisamente in contraddizione con l'atlantismo, con l'Occidente, con l'Europa. Per esempio? Che cosa sta pensando? Per esempio, anche solo, tutti i comportamenti securitari, tutto il fastidio nei confronti delle autoriti, la politica di migranti, io credo che l'accordo che è stato siglato questi giorni in Egitto è uguale agli accordi contro, io ho sempre votato contro, quello della Libia come quello della Tunisia, e poi tutto questo, però il punto è questo, qualcuno si è scandalizzato nelle parole del Papa, il Papa ha detto l'unica cosa razionale di questo momento, cioè o inizia il negoziato, o c'è la guerra, e se c'è la guerra, c'è la guerra nucleare, c'è questa, vogliamo continuare così? Sì, abbiamo aspettato che Putin... La bandiera bianca poteva non... Sì, forse era la bandiera bianca che è stata... La bandiera bianca è una bandiera di pace, non è soltanto una bandiera di resa. La bandiera di pace è la bandiera arcubanella che è bellissima. La bandiera bianca... Allora, però che cosa ha detto? Una cosa molto semplice, che tra l'altro è nel catechismo della Chiesa. La guerra giusta non esiste, può esistere una guerra di difesa ad alcune condizioni, tra queste condizioni c'è il successo, la possibilità di farcela, perché altrimenti il tuo popolo lo sottoponi ad una situazione ancora peggiore, perché questo sta avvenendo. Allora, non è credibile Salvini, e anzi, mi fa paura nelle sue espressioni, perché chiaramente è per Putin e non è per la pace. Però io credo anche che l'Europa, in maniera particolare, dovrebbe incominciare ad attivare tutti i possibili interlocutori, che paradossalmente non possono essere... Ma l'Italia sì che lo può fare, lo dobbiamo fare. Però l'Italia non è nelle condizioni evidentemente di farlo. Perché non è nelle condizioni di farlo? Perché evidentemente non siamo così credibili come si vuole far pensare. Perché siamo parte di un... Ma no, voi vi ricordate il viaggio di Mario Draghi a Kiev? Perché l'Italia ha una tradizione atlantista e una pace si fa per blocchi che stanno guerreggiando per procura, perché su questo almeno dovremmo essere tutti d'accordo. C'è una guerra già in corso tra l'Occidente e la Russia. Il punto vero, bandera bianca o no, è capire qual è il momento in cui si potrà intavolare un negoziato senza dichiarare sconfitta l'Ukraine. Assolutamente, ma certamente era meglio non aspettare che Putin ne prendesse l'80-90%, no? Magari. Cioè, questi due anni... ...di anni di realtà. Ci sarebbero state delle possibilità che forse oggi ci siamo giocati in qualche modo. Io reinterpello il professor Montanari sulla questione dell'immigrazione, perché Rosi Bindi ha praticamente detto che l'accordo che ha firmato la Meloni insieme a Ursula von der Leyen e un paio di altri paesi europei al Cairo con Al-Sisi è un accordo che non andava fatto sull'immigrazione. Questo è quello che mi pare che lei abbia detto. Io penso che sia un accordo che aumenta i morti. Un accordo per aumentare i morti. Montanari e Elie Schlein ha detto che è un'intesa vergognosa anche rispetto al caso Regeni che è tuttora aperto. Sì, certo, c'è anche questo. Purtroppo gli accordi con i dittatori ne sono stati fatti tanti e ne vedremo ancora. Non ci sono solo questi. Ricordo che Erdogan sta nella Nato. Ricordo la Cina. Ma qui il contenuto allarmante è quello che riguarda proprio i migranti. Non per caso, perfino l'Ansa ha parlato di un accordo contro l'emergenza migranti. Il che vuol dire che si chiede ai regimi del Nord Africa di torturare, bloccare, stroncare le vite e le speranze delle persone subsahariane che cercano di venire da noi contro i valori della nostra Costituzione e con i soldi delle nostre tasse. C'è una continuità da Minniti Libia a Meloni Egitto. La cosa più sconcertante è che questa emergenza migranti semplicemente non esiste. Qualche giorno fa è venuto da noi in università il presidente della Fondazione Migrantes della CEI, Monsignor Perego, che con cristallina semplicità ci ha ricordato i dati. Negli ultimi dieci anni i migranti che si sono fermati in Italia in dieci anni sono 128 mila in tutta Italia. Mentre in Italia in questi dieci anni se ne sono andati un milione e mezzo di italiani. Cioè l'emergenza dell'Italia è l'emergenza e migrazione di persone giovani che se ne vanno da questo paese. Noi dovremmo pregare le persone dell'Africa di venire a lavorare nel nostro paese facciamo una cosa ingiusta, mostruosa contro il nostro interesse e non c'è nessuna emergenza se non quella di sa che su il 30% dei migranti che riescono a ottenere la cittadinanza italiana se ne va dall'Italia. Uno su tre preferisce anche un migrante non stare qua. Di quale emergenza parliamo? Allora, aspetti professor Montanari perché Alessandro De Angelis voleva intervenire. È un tema ovviamente molto controverso anche perché è un perenne tema elettorale tra le altre cose. Io suggerirei di questo accordo diciamo dell'Europa con l'Egitto una chiave un po' più complicata perché il cuore della questione non sono i migranti come è noto dall'Egitto dal 2017 i migranti sostanzialmente non arrivano più ma il tema è la stabilità dell'Egitto. Ora, in questo momento l'Egitto... Sono entrambe le cose però scusa Alessandro anche per la stessa Meloni dice che sono accordi per bloccare l'arrivo di un migrante che sarebbero poi considerati clandestini. I numeri dei migranti sono abbastanza rilevanti il tema è la stabilizzazione dell'Egitto su tre fronti il primo è il sud l'Egitto al sud una guerra civile in Sudan sono arrivati già 300 mila profughi se esplode il Sudan rischiano di avviare 400 milioni di profughi il secondo è il Medio Oriente e il varico di Rafah se sciaguratamente Netanyahu decide di attaccare il varico di Rafah è un bel problema e in questo momento chi ha a cuore la causa palestinese di due popoli due stati deve sperare che l'Egitto tenga il terzo problema è il blocco del canale di Suez con la vicenda degli Iuti che ha portato alla perdita di entroiti economico-finanziari dell'Egitto del 50% ora qual è il problema che con due guerre diciamo una nel cuore dell'Europa e una nel Medio Oriente se collassa l'Egitto per l'Europa è un bel problema e non a caso sottolineo non a caso il Fondo Monetario Internazionale ha raddoppiato i fondi da dare all'Egitto che non ha dato alla Tunisia quindi Rossi Bindi dovrebbe fare i complimenti per questo accordo io credo che l'Europa deve porsi il problema della stabilizzazione dell'Egitto allora Rossi Bindi e poi Giulia io sono assolutamente d'accordo su questo punto che ci si debba porre il problema l'Egitto è in una posizione strategica in questo momento e tra tutte le posizioni io sottolineerei quella medio orientale soprattutto alla quale è collegata anche il canale di Suez non ci sono dubbi peccato però che il contenuto principale di questo accordo è vi diamo i soldi perché voi fermiate le persone che vengono in Europa non è vero è un partenariato molto più vero ma non è la parte principale e allora anche questo è comunicato male si è talmente preoccupati di fare della propaganda sull'immigrazione e sui migranti che si nascondono anche questioni ben più importanti e strategiche però questo la dice lunga sulla visione sulla visione di questo governo ma ridurre o gestire meglio le partenze dall'Africa del Nord deve essere l'obiettivo di un governo o no? io credo che io sono assolutamente sostenitrice di una migrazione regolata frutto di partenariato di accordo con i paesi di provenienza sono sempre stata d'accordo su questo peccato che i flussi regolari non siano regolati da anni però questo adesso la Meloni lo vuole fare tant'è che nei prossimi anni saranno mezzo milione la cosa che mi no 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 è stato fatto ma io su questa cosa sono molto critica anche nei confronti del centro-sinistra su come è stata gestita le politiche migratorie detto questo c'è un primato cioè io non pago i paesi che mi fermano le persone ma Schlein fa bene a dire mai più Miniti l'ex ministro dell'interno ho avuto lo devo dire una collaborazione eccellente da presidente dell'antimafia però lui lo sa che la sua politica migratoria non l'ho mai condivisa non l'ho mai condivisa e credo di avere molti elementi gli ultimi 70 morti sono stati lasciati in mare dagli elicotteri della cosiddetta guardia costiera che girava sopra e li vedeva e li ha lasciati in quelle condizioni che cosa succede a loro quando non si fanno partire in Libia nessuno lo sa lo sappiamo muoiono nella Libia chi non è disponibile a regolare i flussi se questo significa far morire le persone dico la mia Giulia e poi De Angelis allora non voglio neanche sfuggire alla sollecitazione del professor Montanari però perché il discorso su che fare dei migranti è reale in termini proprio euro-africani premesso che stiamo parlando nel caso specifico di un accordo multilaterale e di un partenariato strategico Europa-Egitto premesso che l'Egitto non prevede di creare dei lager per concentrare migranti dal sub-Sahara e farli marcire e torturare si tratta di che no l'intento è quello di cercare di sostenere un paese strategico di creare sviluppo ma non è neanche aiutiamoli a casa loro è cerchiamo di aiutarci tutti in casa nostra e arrivo a dare parte di ragione a Montanari cioè o noi cambiamo prospettiva e ragioniamo in termini euro-africani per cui ci aiutiamo in casa nostra aiutando l'Egitto oppure non ne usciremo non ne usciremo aggiungo Montanari avrebbe tutte le ragioni ma non gliele posso dare tutte se no non stare qua però se la Francia non chiudesse 20 miglia allora se cominciamo a ragionare nei termini per cui l'Africa è la banlieue dell'Europa e i primi a considerarci una sotto banlieue sono i francesi De Angelis Montanari Bindi non è così De Angelis io diciamo non vorrei difendere il ministro dell'interno dell'allora partito no anche perché stasera non parliamo di Minniti esatto più di Rosi Bindi ricordo che quando minacciò le dimissioni intervenne Mattarella che è una persona diciamo che ha cuore i diritti umani e che l'allora ministro Paolo Gentiloni considerava quel modello un modello qual è il problema qual è il problema di Minniti del modello Minniti di oggi che è del tutto evidente che bisogna farsi carico dell'Africa con l'idea del portare l'Europa in Africa quindi a mio giudizio il governo va incalzato su questo diciamo fa bene ad andare e poi bisogna dire come gli ha detto il presidente dell'Unione Africana quando è venuto qui per il piano Mattei aspettiamo vediamo i fatti dovevate consultarci prima di consegnarci una scatola vuota aspettiamo i fatti però però Rosi però il modello sbagliato è quando il governo si rivolge all'Albania con il modello di esternalizzazione dei paesi terzi con il modello Wanda eccetera eccetera cioè su quello va incalzato dicendo la direzione è ma aspetta Montanari e poi diritto di replica a lei Montanari su Minniti io ricordo da Fiorentino che il Papa non è venuto a Firenze e poi ha detto che non veniva perché l'ha stato invitato anche Minniti diciamo il giudizio è complesso ma dal mio punto di vista estremamente negativo ieri alle 18.17 Meloni dichiara a Lanza l'intesa con l'Egitto è il miglior modo per frenare i flussi dei migranti allora come li freneranno lo vedremo ma le esperienze non sono un gran che un conto è aiutare i popoli un conto è fare accordi con i governi nel Nord Africa e ricordo che comunque per tutti i discorsi che facciamo il primo tassello è modificare la bossi fini cioè la criminalizzazione la trasformazione in reato dell'immigrazione e l'idea che la clandestinità trasformare in clandestino chi viene qua se questo cambia cambia il modo di guardare è un fenomeno che banalmente non si può frenare cioè dovremmo prendere atto che va governato vabbè però si può gestire si può provare a gestire Ieros Bindi diritto di replica e però siccome Giorgia Meloni fa queste dichiarazioni come insomma tutti i politici quasi tutti o in un senso o nell'altro chi in una direzione chi in un'altra utilizzano il tema dei migranti come tema elettorale siamo in campagna elettorale permanente e comunque anche adesso ci sono elezioni alle porte aggiungo e così ricordo anche che abbiamo avuto un partito la coalizione di centrosinistra che doveva essere trovare un tutto il centrosinistra questo candidato per la basilicata hanno fatto un gran pasticcio c'è una battaglia durissima tra Calenda che è di nuovo insieme a Renzi per andare contro Conte contro il PD di Alishlein in Basilicata c'è un caos terribile e anche in Piemonte però Schlein e Conte vanno separati insomma dove è sto centrosinistra unito? Allora posso prima di rispondere un po' sull'immigrazione e poi dico qualcosa di centrosinistra sull'immigrazione noi dovremmo cambiare proprio prospettiva perché continuiamo a trattarlo come un'emergenza è un fatto strutturale non si ferma non si ferma questo mondo vecchio è ancora benestante è il luogo nel quale un mondo povero e giovane vuole arrivare allora io primo difendo la vita sempre e le persone in mare non muoiono e neanche nei lager e neanche nel deserto secondo quando arrivano qua li accolgo e non creo 10.000 minori non accompagnati di cui abbiamo perso le tracce perché non c'è più nessuna realtà che le accoglie terzo quando si fermano le integro perché so che ne ho bisogno perché l'inverno demografico d'Italia non si risolve con le misure della roccella mi spiego per quanto possano essere apprezzabili o meno è un problema che ormai è secolare che abbiamo di fronte allora li accolgo li integro e magari come ministro della pubblica istruzione anziché fermarlo un preside che usa le vacanze che ha a disposizione per il giorno del Ramadan perché alla sua scuola ci sono mai più islamici che cattolici non lo bacchetto e non gli dico che non lo può fare perché dalla scuola a parte l'integrazione questo è Valditarra il ministro che ha detto al preside noi stiamo cambiando tutto ecco allora però l'aborto no ma aspetti Rosi Bindi la devo portare sul centro-sinistra voglio capire se il centro-sinistra si concentrasse su queste cose e decidesse di avere una linea alternativa sulle grandi sfide di questo momento e si trovasse un accordo tra di loro facendo lunghe discussioni trovando mediazioni e fossero in grado di comunicarle al paese poi magari il candidato per la Basilicata lo trovano anche perché sono in grado di dire all'ex ministro Speranza vacci te sacrificati fai una cosa utile per la tua terra per il centro-sinistra ha sbagliato Speranza a rifiutare? ma assolutamente sì voglio dire sarebbe stato ci sarebbe stato l'unità di tutto il centro-sinistra probabilmente avrebbe vinto le elezioni anziché stare in Parlamento a fare un discorso ogni tanto che è la cosa più importante del mondo il Parlamento per me per questo sono contro il premiareato però intanto faceva vincere una regione al centro-sinistra e magari rimetteva a posto la sanità di questa regione no siccome i giovani non sono abituati a fare questi sacrifici siamo di fronte a questa situazione ma sarà sempre così fin quando non fanno un progetto e un programma in comune si trovano i candidati ma su queste cose bisogna discutere su questi Montanari si capisce perché a 8 e mezzo proposi Rosi Bindi Presidente della Repubblica no lo so posso dire una cosa anche io vai oltre a percepire l'estasi di Montanari allora se la sinistra avesse combattuto la disoccupazione giovanile che era arrivata al 30% l'Italia sarebbe stata in grado di offrire molto di più ai flussi migratori e di fare un ragionamento molto più accogliente cioè le contraddizioni della sinistra sono nate nel momento in cui non ha dato prova di combattere perché dice questo? ma insomma ha governato tanti tanti anni che arrivano adesso sono frutto delle scelte dei governi questo lo si deve sempre ammettere però diciamo che nelle condizioni strutturali di un'economia chiamiamola europea se non soltanto italiana così depressa era complicato fare un discorso di inclusione indiscriminata ed è su questo che la sinistra ha perso molto consenso non è indiscriminata non va fatta in maniera indiscriminata ribaltare la prospettiva però non la si ribalta soltanto in Italia ma Schlein deve confrontarsi con Conte o con Calenda? deve confrontarsi secondo me innanzitutto con Conte cosa che non è semplice per uno che fa un po' di fatica a scegliere tra Biden e Trump ogni tanto poi si ricrede quindi non è una cosa facile lo so perfettamente però il problema è uno solo che c'è le nostre elettoratoli lì c'è l'elettorato di centro-sinistra posso dire che poi per me dovrebbe parlare anche con Calenda per quanto mi riguarda Rossi Bindi con grande passione sta dicendo la cosa che è il punto cioè non a caso lei è tra i costruttori dell'ulivo ebbe parte integrante quando allora i popolari scelsero di stare con il centro-sinistra se non avessero spaccato il partito popolare diciamo non sarebbe mai nato l'ulivo l'ulivo fu una costruzione si parla di ulivo questa roba non c'entra niente e l'ulivo fu una grande costruzione politica nata anche dalla chiarezza perché il problema è che i nodi politici lì vanno sciolti arrivo all'unione però il tema questo casino sulla Basilicata che è stato gestito con i piedi è una storia realmente miserabile che nasce dal fatto che i due protagonisti di quella che dovrebbe essere l'alternativa non sciolgono i nodi di fondo allora i nodi di fondo e uno dei nodi di fondo è che non può essere che l'alleanza l'alleanza si fa solo quando la dice Conte alle sue condizioni altrimenti non si fa ma è allora è succube l'ischline di Conte Montanari rapido però ci vuole un progetto il punto non è la formula il punto è per fare che cosa cioè di volta in volta ci vuole un progetto credibile e un candidato credibile basta a stento come si è visto in Sardegna in cui comunque metà della gente non è andata a votare ci vuole però questo le formule larghe purché siano larghe io ho molti dubbi sul fatto che Italia Viva che si appresta a votare alla reforma del premierato abbattendo la Costituzione nel 48 sia parte naturale di uno schieramento progressista però bisogna essere uniti per vincere se no non ci sono i numeri perché scusate questo abbiamo cominciato la politica del pallottoliere con Italia Viva è un'altra storia Italia Viva Renzi è un'altra storia ma abbiamo cominciato la puntata con Salvini che ha detto la sua sulle elezioni in Russia dicendo quando un popolo vota sempre ragione Meloni in serata però ha chiarito ha detto che la politica del suo governo in proposito è chiara coesa quindi diciamo il centro-destra destra-centro riescono sempre a trovare poi una quadra come si suol dire mentre invece il centro-sinistra no e questa è la grande differenza ma certo ma perché quelli sono una coalizione diciamo con diversi apporti forza collaudata da 30 anni qui va costruita ed è per questo che serve un processo di chiarezza ma ne parlano da non so quanto tempo che devono costruire non so cosa aspettano ma cosa è successo imparassero dal centro-destra ma che cosa è successo no 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 adesso non possiamo dire cosa è successo diciamo che siamo però un po' più esigenti a sinistra che se insomma non lo so quanto reggerebbe un governo di centro-sinistra con un vice premier che prende una posizione così e vedi Meloni il 448 ha detto ma chi la paga sono chiare ho capito ma siccome io le parole do importanza va bene senta Bindi tra l'altro voglio ricordare voglio ricordare che da domani lei parteciperà alla due giorni dell'università Roma 3 e questa due giorni si intitola una scuola per cittadine e per cittadini sovrani io però adesso vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro che ci fa tornare a Putin guardate il sociologo Denis Volkov che a Mosca guida l'unico istituto di sondaggio indipendente dice a Repubblica che il plebiscito a favore di Putin si spiega col fatto che i russi vedono la guerra in Ucraina come parte dell'eterno confronto tra il loro paese e l'Occidente è la reazione patriottica a un conflitto internazionale quanto Putin avesse investito sul patriottismo ripristinando la grande Russia lo aveva ben compreso anni fa Demetrio Volchic inviato nei paesi dell'est e voce della Raida Mosca il quale analizzando i simboli del nuovo potere aveva osservato come lo stemma dal sapore zarista si accompagnasse alla bandiera rossa dell'esercito che aveva sconfitto Hitler e come l'inno fosse ancora quello sovietico ma le parole non più il timore di perdere Putin suscita nel popolo russo una specie di paura irrazionale per l'ignoto aveva scritto Volchic nei suoi diari ora raccolti dall'editore Sellerio in un libro dal titolo A cavallo del muro con prefazione di Yash Gavronsky e note di Romano Prodi e Walter Veltroni del resto osserva Volchic la concentrazione del potere in una sola persona fa parte della storia russa alcune volte si sono visti due zar due capi comunisti e in ultimo il duello tra Yeltsin e Gorbachev ma il dualismo al paese non è mai piaciuto piace invece l'icona di Putin che sta lui solo al Cremlino separato dal popolo dalle mura e dal servizio di sicurezza ma sempre presente sui monitor delle televisioni e benché Gavronsky inviti a non rileggere Volchic alla luce dell'invasione dell'Ucraina non c'è dubbio che nella Russia di ieri raccontata da quel brillante giornalista e poi parlamentare italiano ci siano molte spiegazioni dei drammi di oggi siamo in chiusura grazie Rosi Bindi ricordo che da domani lei parteciperà alla due giorni dell'università Roma 3 una scuola per cittadine e cittadini sovrani centenario di Don Milani centenario di Don Milani quindi buon lavoro in questi due giorni grazie Alessandro Giulio grazie Alessandro De Angelis grazie professor Montanari grazie spettatrici e spettatori adesso restate con noi perché vi lascio a Corrado Augas con la sua torre di Babele dal titolo I segreti del Vaticano arrivederci noi come sempre domani grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.